Sostanzialmente verso le due del pomeriggio abbiamo scoperto di queste fiamme alte che si divulgavano dal centro sociale, ha preso fuoco tutto il secondo piano dove c'erano i progetti della palestra e dei laboratori pop che sono andati totalmente distrutti e per spegnere le fiamme è stata usata ovviamente tantissima acqua da parte dei vigili del fuoco che è arrivata al piano sotto per cui ha reso inagibile anche tutta la sala per le serate e la scuola di italiano per stranieri che era un progetto che era appena nato. Quindi insomma lo spazio è rimasto totalmente inagibile. Siamo convinti che questo incendio non sia un cortocircuito come è stato detto all'inizio perché noi la sera prima abbiamo avuto una serata di autofinanziamento per le vittime del terremoto, abbiamo raccolto dei soldi con una serata e-pop, abbiamo chiuso il posto in sicurezza come ogni giorno chiudendo l'elettricità e quindi nel punto dove è scoperto l'incendio non c'era elettricità ed era tutto staccato. Sicuramente non resteremo per molto tempo senza spazio perché abbiamo moltissimi progetti che devono partire dalla scuola di italiano per ragazzi stranieri alla palestra che deve continuare i suoi corsi, a laboratori e-pop, quindi dobbiamo sicuramente andare avanti con tutte le nostre iniziative e quindi ci ritroverete in giro per la città, ci rivedrete. L'assessore Rozza non si può preoccupare, noi il posto l'abbiamo chiuso in sicurezza, ogni volta che entrammo in un posto lasciato vuoto per anni ci sono delle condizioni allucinanti, noi dobbiamo mettere a posto tutto. Per lei il problema è che noi non dobbiamo rioccupare quel posto, non c'è problema, il posto è totalmente distrutto ma sicuramente il collettivo Lambretta non si ferma qua.